Avellino 0, ha segnato il capitano con il numero 9, Pietro! 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 Quasi un tocco da Futsal, quello di Iemmello che l'ha giocata da Stuzia. Quella in maglia bianca, troppo facile per Iemmello disegnare questo assist per Biaci che tutto solo ha trafitto forte, dunque tutto da rifare per l'Avellino. Vantaggio che è durato pochissimo, scusate pareggio, quasi gol in fotocopia rispetto a quello del 2-1 e da lì Biaci non perdona mai, palla sotto la traversa, nulla da fare per forte, Aquile per la terza volta nel match, avanti.